Chi c'è ora? Attenzione! Io suonavo con un gruppo chiamato Sunshine Family facevano cover di reggae prima dei Bluebeaters ma assai assai Un giorno arrivò un batterista che si chiamava Daddy Wally select anche di Mamma Africa che è stata la prima crew in assoluto a procorre il reggae in Toscana e mi fa perché tu vuoi venire a suonare non siamo i generali i fuochi il resto generale il generale ragazzi il pioniere del reggae italiano il belenaro di Branzi quando la gente a Firenze faceva le barricate per Roberto Paggio quando parlano il generale ne raccontava le storie fatemi sentire quindi per me è un inmenso onore presentare non solo un fior fior di artista ma soprattutto un fior fior di persona cosa assai più importante un applauso per il generale Firenze voglio che girate tutta la vostra energia tutto il vostro calore in un urlo incredibile per questa straordinaria persona che si chiama il generale ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ragazzi sto camminando solo camminando da San Cristobal vado verso il corazon centrico lo dico senza amiguità terra, giustizia e libertà si con semplicità terra, giustizia e libertà l'appuntamento è stasera al Caffè Rivoluzione L'appuntamento è stasera al Caffè Rivoluzione L'appuntamento è stasera al Caffè Rivoluzione evviva Maticco evviva Emiliano con il corazon centrico Dello Zapatista adelante they vviva Maticco evviva Emiliano con il corazon centrico Dello Zapatista adelante Donde porta la strada, solo caminandose arriva Donde porta la strada, solo caminando Caminando, caminando, verso la selva la camidona